Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it Tutte le partite hanno tre punti in palio domani vedendo la classifica nostra del Frosinone e il calendario di Bologna sembrerebbe che non ci sia un'alternativa alla vittoria probabilmente lo stesso ragionamento lo fanno anche Frosinone Sì, ma questo è ogni partita per cui sappiamo che domani giochiamo in casa mi auguro che come sempre, come ho detto l'altra volta, come è stato a Ferrara la nostra gente si allarma in più perché dopo comunque a Ferrara penso che abbia appreudito lo spirito e la voglia che ha avuto la squadra e questo deve succedere domani domani abbiamo bisogno del nostro pubblico e noi abbiamo il dovere di fare una grande partita è chiaro che è obbligatorio vincere però sappiamo anche che il calcio a volte anche quando fai delle grandissime gare può succedere di tutto per cui noi dobbiamo dar seguito secondo me alle prestazioni di Napoli e Ferrara insomma a Ferrara avevo detto che sarebbe iniziato una nuova stagione perché avevo visto lo spirito della squadra, vedevo come si allenavano vedevo la personalità che avevamo dimostrato a Napoli e domani dobbiamo dare seguito a queste due secondo me ottime partite che abbiamo fatto al di là dei risultati perché poi giocando così insomma la vittoria deve venire per forza e speriamo domani ecco no mi permetto di sentire solo su una cosa Ferrara secondo me forse più di un tempo 55 minuti ecco poi naturalmente uno può mettere l'accento sui primi bellissimi 55 minuti o sul calo della seconda parte di partita ma ecco ti chiedo perché secondo te la tua squadra è così cambiata nel secondo tempo è solo legata alla condizione fisica di qualche giocatore che non era meglio a Ferrara dico no no io non sono d'accordo su queste cose perché la squadra per 60 minuti è stata su delle ritmi di corsa fuori da ogni norma in quei 60 minuti la pecca è non essere 2-3-0 avanti poi è normale avere un calo anche con i cambi se no saremo degli extraterrestri saremo primi in classifica e avremo il motore che ha la Juventus ma è impossibile avercela a Bologna per cui sono due distensioni che probabilmente non capisco che fate sempre è chiaro che in una partita non si può fare 60 minuti con i primi 60 se no saremo extraterrestri saremo come Ronaldo invece dopo delle pause vanno prese in quelle pause purtroppo non pause ha avuto questa occasione ci hanno fatto gol poi dopo la squadra era ritornata fuori meritava di fare gol con Palacio abbiamo avuto delle ripartenze importanti per cui per me la parita a Ferrara è stata tutta ottima è chiaro che una parita così va vinta questa è l'unica pecca però domani abbiamo già secondo me la possibilità di ripetere la stessa gara e ripetendola dovremmo vincere perché poi dopo il calcio se giochi in questo modo dopo ti dà ragione secondo me buongiorno che cosa ti suggerisce eventualmente la cifra però delle ultime mezza ore perché è un momento della partita in generale in cui fate meno e ne subite di più parlo di gol rispetto alle prime ore quindi è sempre una questione anche magari di gestione dello sforzo o che cosa c'è? non lo so non lo so non lo so cosa sia mi ripeto dico quello che ho detto prima probabilmente dovremmo gestire un po' più le forze nei primi 60 minuti ma io preferisco andare a 2000 all'ora e cercare di fare due o tre gol e chiudere la partita lì è dove dobbiamo migliorare lo sappiamo poi i cali ce li hanno tutte le squadre lì dovremmo probabilmente essere più bravi i cambi ci devono dare probabilmente di più per cui sono tutti fattori ma io adesso insomma sto a guardare principalmente a quello che fa la mia squadra come dicevo prima c'è un bello spirito c'è un'ottima voglia di fare bene domani abbiamo una grande prova in casa insomma davanti al nostro pubblico che come dicevo prima mi auguro che sia numerosi ci dia una grande mano dall'inizio alla fine poi insomma vedremo come sarà andata e come sempre se non avremo meritato ci prenderemo i fischi ma io sono sicuro che domani insomma ci prenderemo lì a plagi e da lì insomma come è stato a Ferrara ripartirà un nuovo campionato e ci prenderemo le nostre soddisfazioni allora tra le cose positive la partita di Ferrara buono l'approccio 4-3-3 buona propositività data da 4-3-3 bene anche Palassio in quella posizione quindi per domani ti chiedo avanti così avanti con Palassio lì cioè ora tu in questo modo Palassio lo vedi come alternativa Santander o l'uno o l'altro oppure può giocare Santander e Palassio di nuovo dirottati in fascia anche se tu settimana scorsa già dicevi che quella è una soluzione un po' di ripiego io penso che domani sia una partita particolare sinceramente non ho ancora deciso Palassio giocherà sicuramente non so se giocherà centravanti o giocherà sottopunta perché potremmo anche giocare con due punte per cui non ho ancora non ho ancora deciso perché davanti ho veramente l'imbarazzo della scelta perché Santander sta bene sta molto bene destro Palassio in grande forma abbiamo Orsolini abbiamo Sansone abbiamo eventualmente anche Crecce e Orgi che possono giocare attaccanti esterni per cui insomma c'è Falcinelli abbiamo veramente l'imbarazzo davanti e non lo so insomma se giocheremo come la Ferrara Palassio farà il centravanti se invece giocherà una punta di peso Santandero destro Palassio giocherà seconda punta perché non mi piace chiamarlo esterno perché per me gli esterni sono quando la palla dall'altra parte diventano secondi attaccanti per cui insomma penso che in una parita così Palassio possa giocare anche in quella posizione Ciao Pippo due domande la prima ti aspettavi un nuovo arrivo questa settimana la seconda hai letto le parole di Saputo le hai lette le hai viste e tutto il resto e cosa ne pensi? Ma niente io so benissimo quello che il Presidente pensa di me ho confronto con lui quando è qua tutti i giorni so quello che pensano i dirigenti per cui io sono molto sereno so che per me ogni partita è un esame ma lo sarebbe stato anche se le cose fossero andate meglio io so che devo dimostrare il mio valore io sono come dicevo molto contento della scelta che ho fatto questo è un ambiente favoloso nei miei confronti anzi meritatamente per cui io mi auguro di dare tante gioie insomma al nostro Presidente ai dirigenti e ai tifosi fino adesso non ci sono riuscito ma a me le sfide piacciono e io sono convinto che alla fine la vincerò per cui sono molto sereno da questo punto di vista mi auguro di regalare al Presidente una grande partita i tre punti anche perché insomma con la presentazione dello stadio che è qualcosa di fantastico mi piacerebbe rimanere tanti anni qui a Bologna ecco ti aspettavi qualcun'altro la settimana? ti aspettavi qualcun'altro la settimana? ma sai il mercato nasconde dell'incognite io penso che domani non ci sono scuse e quelli che ci sono devono vincere questa partita dobbiamo vincere a tutti i costi giocando bene ma domani mi interessa poco noi abbiamo l'obbligo di portare a casa i tre punti in tutti i modi poi dopo ci sarà ancora qualche giorno di mercato e poi finalmente finirà e insomma quelli che resteranno insomma daranno battaglia per far sì di raggiungere il traguardo che è quello insomma che tutti sapete l'uscita di De Maillot anche se magari non è stato sempre diciamo tra i primi delle tue scelte porta per una questione puramente numerica ad attenderci anche un difensore da qui alla fine parlo di un difensore proprio centrale ma guarda oggi il mercato è l'ultimo dei miei pensieri sinceramente io la squadra sa che chi non è contento per me può andare via non c'è nessuno intoccabile non c'è nessuno che io trattengo è vero che a Bologna si sta molto bene ma qui per giocare bisogna sudarsi il posto De Maillot è stato un professionista sempre comporato bene ha deciso di andare a giocare a Udine per cui insomma in bocca al lupo a lui e questo deve essere di monito per gli altri chi vuole restare qui giocarsi il posto tutte le domeniche sapere che 6-7 giocatori rimangono fuori anche dall'allenamento sa che è così se no può prendere la propria decisione adesso non voglio pensare l'uscita adesso penso il mio obiettivo è sulla partita di domani che va vinta e poi dopo domani sera se tutto sarà andato bene come speriamo parleremo anche del resto Del Frosinone cosa ti attendi nel senso che è una squadra anche un po' difficile da comprendere nel senso che da poco ha cambiato guida tecnica e l'allenatore che è arrivato rispetto a quello di prima non li ha poi cambiati più di tanto o no? Sei d'accordo? No non li ha cambiati più di tanto però insomma purtroppo noi abbiamo negli occhi l'ultima partita che è quella con l'Atalanta e l'Atalanta sappiamo tutti il valore dell'Atalanta per cui però il Frosinone prima con Baroni aveva pareggiato a Udine e aveva fatto 0-0 col Milan e forse poteva anche vincerla per cui queste sono le partite della Serie A insomma noi sappiamo dobbiamo avere rispetto per una squadra che comunque ha dei valori però sappiamo benissimo che domani dobbiamo vincere a tutti i costi questa partita ma la squadra è pronta e con intelligenza perché poi le partite vanno giocate con intelligenza insomma cercheremo di portare a casa i tre punti che sarebbero insomma benzina per la nostra classifica volevo chiederti se nella gara con la Spal più che con quella della Juventus che visto che erano appena arrivati Sanzone e Soliano ti hanno dato quello che ti aspettavi da loro nella gara di Ferrara beh insomma quello che hanno dato lo vedete tutti e lo l'hanno detto anche i giocatori che avete intervistato insomma ti danno grande palleggio grande personalità chiaramente dei due Soriano è quello più avanti perché lo sapevamo insomma si era sempre allenato a Torino aveva giocato 6-7 partite e insomma Soriano sta facendo ottime cose Sanzone ha fatto una buonissima partita è chiaro che lui ha meno minuti nelle gambe però l'ho tenuto in campo 90 minuti perché comunque poi è stato quello che ha messo il pallone a Palazzo all'ottantasettesimo scartando insomma sulla fascia mettendo perché poi ha dei colpi che anche se la condizione non è ancora ottimale ti può regalare insomma quei colpi che abbiamo bisogno là davanti però sono ragazzi molti seri che mi hanno stupito cioè non mi hanno stupito perché li conoscevo ma ci sono integrati molto bene sono diventati dei leader presto per il gruppo ed è quello che avevamo bisogno A proposito di leader ti chiedo Zemmali ha questo problema fisico ma rientra ancora nei piani di questo club o è soltanto un problema di infortunio o c'è anche visto che sono state anche le voci di mercato accostate a lui Penso che Zemmali l'avete visto Domenica Ferrara che da infortunato non convocato è venuto a mangiare con la squadra e a presenziare la riunione tecnica da capitano vero per cui Zemmali in questo momento è infortunato ha una lesione al polpaccio si sta curando però anche non giocando stessa dimostrando un capitano per cui per me è assolutamente come prima purtroppo è infortunato ma quando rientrerà ci darà una mano perché ha delle qualità che ci possono aiutare un'altra cosa ti chiedo ti ha chiesto prima Matteo se hai letto le parole di Saputo ti chiedo se ti sono arrivate all'orecchio anche le parole di Accardi il procuratore di Mbaie che è stato abbastanza pesante insomma sulla situazione di questo ragazzo l'ho applicato pesante sulla gestione di questo ragazzo ma guarda Accardi io ci ho giocato contro adesso fa il direttore sportivo all'Empoli per cui non no no Accardi Beppe Accardi va bene ciao grazie tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it